Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Alla settimana della moda brilla in passerella chi non ti aspetti. Veronica Cozzani, madre di Belen e Cecilia Rodriguez, ha sorpreso tutti sfilando con un abito di Martino Midali. Modella per un giorno ha reso felici le figlie presenti all'evento, che hanno condiviso tutto sui social. Anche Cozzani ha postato una clip della sfilata, ricevendo molti commenti positivi, tra cui quello speciale del genero Ignazio Moser. Veronica Cozzani ha debuttato alla Fashion Week di Milano con un lungo vestito argentato, mostrando sicurezza e determinazione. Le figlie Belen e Cecilia hanno documentato ogni dettaglio, condividendo storie e video sui social. Belen ha anticipato la sfilata della madre su Instagram, immortalando la sua passeggiata iconica diventata virale. Il post più atteso è stato quello di Cozzani, entusiasta per l'esperienza con Martino Midali. I fan non hanno risparmiato complimenti, elogiando la sua bellezza e portamento in passerella. Ignazio Moser ha esclamato la sua gioia definendo la suocera una top model, mentre Cozzani ha cercato di smarcarsi dai complimenti. Il debutto di Veronica Cozzani in passerella è stato un successo, con tutti che hanno apprezzato la sua eleganza e femminilità. I fan hanno elogiato la sua bellezza e la sua capacità di rimanere autentica, nonostante il successo. La relazione speciale con Ignazio Moser è emersa ancora una volta, con il genero che ha espresso tutta la sua ammirazione per la suocera. Un trionfo che ha lasciato.